Musica Buonasera a tutti Grazie, ma che meraviglia questa piazza della loggia che accoglie 90 anni di mille miglia è la prima volta che la mille miglia apre alla sua città, apre a tutti ed è un vero e proprio evento quello di oggi se pensiamo che è nata nel 27 per arrivare l'ultima edizione nel 57 quindi oggi è la 35esima rievocazione mi sono abbastanza preparata insomma perché abbiamo avuto 700 iscrizioni abbiamo avuto perché ormai mi sento a casa, 700 iscrizioni, 450 accettate quindi 450 auto che hanno corso auto che dovevano essere appunto o auto che avevano già fatto la mille miglia o sempre costruite dal 27 al 57 emozione ce n'è stata tanta perché diciamo che è un orgoglio per il nostro paese la mille miglia diciamo che dà la possibilità di conoscere quello che è il nostro paese e Enzo Ferrari diceva che era un museo viaggiante la mille miglia e quindi facciamo un applauso alla conclusione di questo novantesimo anno forza per scaldarci un po' un bel applauso dai, grande successo tra l'altro Martina non so se sai che spesso la mille miglia viene anche accompagnata dalla pioggia la pioggia che c'è stata soprattutto a Roma ma siamo partiti giovedì con il sole e guarda che meraviglia di cielo c'è anche un drone che lì c'è un drone che ci è quello che sta puntando e dopo Brescia che siamo partiti giovedì siamo arrivati appunto a Padova, a Roma, a Parma per tornare oggi dalle 2, 2 e mezza che sono arrivati i primi equipaggi fino alle 17 circa e noi eravamo lì a lottare come dei leoni sotto il soleone con tutti loro a salutare gli equipaggi 39 paesi tu sei tranquilla io sono tranquilla sì perché ne ha uno simile mio figlio e quindi mi sono dovuta adattare insomma 39 paesi che hanno partecipato 5 continenti siamo arrivati a toccare addirittura 7 regioni e più di 220 comuni quindi mille miglia è arrivata ovunque quest'anno bene, una cosa meravigliosa allora siamo pronti perché abbiamo tanti equipaggi gli equipaggi sono comprensibilmente stanchi tutti coloro che sono stati oggi in Viale Venezia hanno preso tanto sole ma oggi è una giornata davvero fantastica partiamo allora chiedo a tutti ci alziamo in piedi e ascoltiamo l'inno nazionale italiano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buonasera a tutti intanto sono state le giornate bellissime Brescia ha sposato la mille miglia come una grande festa popolare perché è un momento felicissimo per chi corre per chi attraversa l'Italia ma è molto importante che per noi d'altra parte la mille miglia è legata in maniera strettissima la nostra città qui si parte qui si arriva ma soprattutto è la città che ha una tradizione motoristica ha una tradizione fondamentale anche dal punto di vista industriale non solo sportivo con l'automotive quindi noi siamo molto legati alla mille miglia ce la teniamo ben stretta e la consideriamo uno dei nostri brand di riferimento anzi la consideriamo il brand più importante che abbiamo a livello internazionale e poi perché i bresciani si divertono ieri sera è stata una serata fantastica con la notte della mille miglia 200.000 persone in città e questo ovviamente significa che questa festa, questa corsa è apprezzatissima puoi vedere la città che parla tante lingue, tante lingue straniere con le persone che entrano e vivono questi spazi urbani che conoscono la nostra città per noi è anche un grande occasione di promozione della nostra città grazie sindaco grazie davvero grazie Emilio Del Bono sindaco di Brescia il presidente di ACI Brescia Vittorini caro presidente venga qua e ci racconti intanto abbiamo condiviso sul palco le presento Martina abbiamo condiviso sul palco molte ore e anche la fatica che adesso diventa gioia per avere chiuso una grande edizione gioia per una grande edizione 90 anni che rappresentano una pagina nuova mi si perdoni non è un vestigio qualche anno fa l'automobile club con delle persone che ci hanno ragionato sopra hanno progettato una soluzione un'idea ci hanno dato del gli audaci dei folli quelle persone hanno deciso di riportare a Brescia la mille miglia anche nella sua gestione è stato un rischio vi ringrazio perché è un applauso che sono stati anni difficili molto in salita chi ci ha lavorato e io vi ringrazio tutti hanno portato a casa questo risultato ci tengo a dar conto di una circostanza è un museo viaggiante la mille miglia ma è un museo che porta in giro la nostra città porta in giro il nome di Brescia porta in giro tutti coloro che hanno lavorato in mille miglia Inaci Brescia sono 18 mila associati sono tutti quelli che hanno lavorato per far sì che questa idea diventasse realtà guardiamo in avanti io guardo in avanti ringrazio tutti quelli che hanno realizzato questa idea che l'hanno progettata e con il mio modestissimo aiuto sono riusciti a portarla a questo livello grazie perché noi andiamo in giro per il mondo e per l'Italia con voi grazie grazie Presidente caro Presidente ben ritrovato allora è andato tutto bene vien da dire questo no? 90 anni portati bene ma portati benissimo la forza della mille miglia è la nostra storia il nostro paesaggio ma soprattutto il calore di tutte le persone che ci accompagnano per i 1700 km ci si emoziona ancora a fare la mille miglia anche voi che la pensate la disegnate e la rendete poi operativa beh se non ci emozionassimo probabilmente non riusciremo a trasferire questo calore bene 20 grazie ottima risposta allora Valerio Marinelli il suo bilancio anche alla fine di questa avventura che dura 4 giorni per noi ma poi in realtà dura un anno per voi è stata forse la miglior miglia miglia la miglia miglia è stato un successo e ringrazio tutti i collaboratori e tutti i partecipanti grazie grazie dobbiamo la più bella la più bella la più bella mille miglia di sempre sei capitata l'anno sono capitata bene ah bene bene e insomma che ha seguito la mille miglia di sempre arriva la signora luigia buonasera buonasera e allora c'è una sorpresa perché comunque il primo classificato le prime classificate sono appunto la signora luigia tonolini insieme alla figlia Maria Gaburri Maria Gaburri vince con la Coppa delle Dame eccola qua brava Maria eccoti bentornata venite venite un pochino più avanti Maria vieni 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 venite venite un pochino più avanti sul parco venite più avanti così i fotografi li possono immortalare e passiamo Aldo Bonomi consegna il premio per l'equipaggio che ha vinto la Coppa delle Dame del trofeo dedicato a Roberto Gaburri complimenti vogliamo abbiamo un microfono voglio solo dire una parola in memoria di Roberto è una di quelle persone che assieme a un altro gruppo di cui io facevo parte è quello che ha avuto l'idea il coraggio di affrontare questa nuova mille miglia contro tantissimi avversari oggi è stato il primo presidente perché ha creduto nella mille miglia ha accettato di rimanere in mille miglia SRL seppur nessuno o poche persone l'hanno amato il riconoscimento oggi di poterlo premiare con lo scorso anno è stato io credo che sia veramente un dovere nei loro confronti e un ringraziamento anche alla moglie che mi ha sempre voluto bene mi è sempre stata vicino e ha sempre detto Roberto Roberto stai lavora e vedrai che ci sarà successo per tutta Priscia grazie per queste belle parole grazie Vialdo Bonomi grazie grazie signori continuiamo con il terzo classificato vincono il premio Giordano Mozzi e Stefana Biacca su un Alfa Romeo 6C 1500 DS zagato chiamo sempre Bonomi sul palco eccoli qua bravissimi eccoli ciao complimenti bravi bravi complimenti allora raccontiamo anche al nostro pubblico qua qual è il fatto tra voi due perché tu mi hai raccontato prima che qualcosa è accaduto e lei ti ha detto se no passi la spirapolvere com'è andata raccontiamolo no se è così ti faccio già scendere in uso al palco passi la spirapolvere no ne esce benissimo ne esce benissimo questa coalizione femminile per i coloni ma noi lottiamo come dei leoni questo riguarda soprattutto la Villa Emilia non il trofeo Gaburri in sostanza c'è una sorta di scommessa con mia moglie dopo il pasticcio che ho fatto l'anno scorso quando eravamo primi in classifica siamo passati al nono posto perché ho il maldestramente mi ho toccato lo strumento lei mi ha detto tesoro non c'è mica nessun problema abbiamo perso il primo posto abbiamo ancora due giorni di gara ti voglio bene però ti dico una cosa adesso ti porti sul podio della Villa Emilia oppure passi la spirapolvere tutto l'anno e di fronte a questa minaccia poi ci rivediamo ci rivediamo più tardi vediamo se devi passare la spirapolvere o no intanto complimenti un grande onore vincere il terzo posto il trofeo Gaburri ciao Roberto grazie un applauso a Daniela Andressa e Gustavo buonasera complimenti ciao complimenti presidente mi è scappato sempre a fare buonasera per rimanere con noi intanto le passo il premio trofeo Gaburri dunque medaglia d'argento per questa coppia facciamo la nostra foto di rito tutti insieme eccola perché vogliono fare la foto con te guarda che bello grazie e complimenti ancora mi rimanga qua andiamo a soprire chi ha vinto chi ha vinto il primo posto è arrivato sono arrivati Joan Tonko Novi Tonko Novi G brava e Guglielmo Berisso su una Bugatti 40 grande coppia grande coppia due anni fa vincitori Tonko Novi e Berisso ciao buonasera complimenti ciao ciao ben tornato ciao come stai quest'anno è andata meno bene nella competizione primo premio possiamo avvicinarci ai fotografi facciamo un passi così siamo più vicini eccolo coppa delle dame a Maria Gaburri e Luigia Tonolini su una Abarth Fiat 750 GT Zagapo eccole qua eccole di nuovo sul palco complimenti un altro bacio complimenti brava quanta emozione brava allora chi delle due vuole dire una cosa un pensiero un'emozione chi fa mamma o figlia aspetta che andiamo a prendere il microfono ce l'eravamo dimenticare Maria venite pure avanti Maria siamo molto contenti ed emozionati è stata una gara bellissima abbiamo visto dei posti fantastici e voglio dire che il nostro Angelo ha guidato con noi il nostro Angelo e il babbo Roberto grazie grazie davvero grazie grazie è puramente di bronzo al terzo posto si è classificato l'equipaggio Giordano Mozzi e Stefania Biacca su un Alfa Romeo SC 1500 GS Zagato Schopard eccoli qua che tornano l'equipaggio si è anche classificato secondo nel secondo raggruppamento e allora se non ho cattiva memoria c'era una tensione tra marito e moglie se mi riporti sul podio bene altrimenti un anno di aspirapolvere ebbene un anno di aspirapolvere lo farai tu perché lui ti ha portato sul podio Stefania complimenti si scherca allora ce l'abbiamo fatta complimenti intanto guarda Stefania c'è un robottino c'è tutte le comandi e pulisce va in giro per casa e fa tutto per te ottimo l'ho già testato allora c'è il questore c'è il questore Cerabino per salire qui sul podio con noi è ancora qui il questore venga 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 questore chiediamo ancora un piccolo sforzo per essere qui sul podio a premiare l'equipaggio terzo classificato che aveva questa cosa questa questione di famiglia fondamentale da dirimere tornano sul podio Mozzi e Biacca con questo omaggio che arriva anche da Ubi Banca e dunque ricevono il premio anche dal questore di Brescia niente aspirapolvere però la moglie ha detto che vuole i bimbi quest'anno quindi attenzione questa è una roba un po' più complicata l'epipaggio è arrivato al secondo posto Luca Patron e Massimo Casale è stata una vittoria davvero contesa fino agli ultimi istanti patrone Casale sono stati a lungo sono stati in lotta fino agli ultimi metri e quando li abbiamo salutati sul palco d'arrivo non hanno nascosto un po' di delusione che mi sembra non gli sia ancora passata ecco così dall'andatura mi sembra che tanto contenti però vediamo diciamo che il corpo da decifrare è abbastanza semplice grazie di essere tornato bene 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 allora vi facciamo un grande applauso Luca Patron e Massimo Casale complimenti per questo secondo posto ciao ciao complimenti è stata una grande gara la vostra io capisco che arrivare secondi di poco vi possa anche lasciare tanto amaro in bocca però poi c'è la soddisfazione credo anche di aver conteso il successo a un grande equipaggio chi parla? chi parla? ma no era bellissima prove tirate tecnica tecnica poi un po' di prove erano un po' troppo spinte chi ha buttato giù i tempi almeno per le macchine un po' più vecchie perché credo che la mia fosse la più vecchia del 25 diciamo i pistoni i pistoni venivano fuori a salutare più di qualche volta primo classificato della Mille Miglia 2017 il novantesimo anno della Mille Miglia Giordano Mozzi e Stefania Biacca no volevo vedere se lo fate attenti vince il primo premio Andrea Vesco e Andrea Guerino di nuovo con un Alfa Romeo è il 1750 Gran Sport del 1931 eccoli là la stessa auto che fece vincere anche Tazio Nuborari nel 1933 bravi ragazzi anche dello scorso anno complimenti Guerini e Vesco eccoli qua la coppia d'oro della Mille Miglia guardali che belli hanno fatto la doppietta eccoli qua che arrivano si prendono naturalmente tutta la passerella per questo successo straordinario un successo conteso fino all'ultimo dall'acquipaggio precedente ma che insomma darà ancora più gioia eccoli qua sono arrivati eccoli qua Guerini e Vesco precisi puntuali bravi che belli soddisfatti che ben sorrisi dopo che hanno inondato di spumante tutto il palco la grande vittoria di Vesco e Guerini ciao bravi bravi ragazzi grazie grazie adesso mettetevi qua e prendetevi tutti gli applausi del pubblico mettetevi qua in mezzo Vesco e Guerini grandi campioni aspetta che non sono finiti i premi ne mancano ancora due vincono anche il primo premio nella classifica per penalità sono davvero la coppia d'oro vieni 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 eccoci così ti si vede bene arriva anche Vincenzo ma vieni 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 Grazie a tutti.